a tutti ben ritrovati sul nostro canale benvenuti nuovi iscritti la domanda che vogliamo porre oggi alle carte è come andranno le cose fra me e questa persona quindi concentratevi bene su una persona scegliete uno dei tre mazzetti andremo a vedere il passato il presente e il futuro della relazione quindi vi prego se già nella descrizione del passato e del presente non risuona non vi ritrovate cambiate variante perché probabilmente il messaggio è per voi avete scelto la variante sbagliata o comunque le carte oggi per voi non hanno un messaggio specifico quindi pensate a una persona scegliete una fra le tre varianti fra l'ametista la giata e il corzo rosa dopodiché penso che possiamo iniziare con la prima variante che è l'ametista quindi andiamo a vedere un po' cosa ci dicono le carte quindi il passato della relazione vediamo un po' a vedere ah qui è uscito un bel due di coppe rovescio quindi già così la descrizione del passato vi posso dire che questa è una relazione che è nata in modo fulmineo e c'è stata subito una fortissima attrazione subito una fortissima alchimia e vi siete piaciuti subito vi siete messaggiati tantissimo c'è stato proprio una serie di incontri di flirt e se non vi siete incontrati probabilmente qui comunque c'è stato un rapporto di messaggistica comunque un rapporto molto stretto poi all'improvviso è come se questa persona all'improvviso vi abbia tagliato via dalla propria vita è molto iconografico il fatto che esca questo due di coppe rovescio io non sono di solito non leggo le carte al rovescio però quando esce una carta al rovescio ne tengo conto e in questo caso vuol dire che proprio la coppia o non si è formata quindi eravate amici magari o vi stavate frequentando o stavate flertando diciamo magari eravate in un rapporto di amici più che amici mettiamola così e poi alla fine la coppia si è sciolta o comunque non si è mai formata in alternativa per molti di voi visto l'asso di bastoni qui magari è nato qualcosa quindi magari una piccola relazione c'è stata però all'improvviso comunque la situazione si è sciolta quindi io penso che questa sia più per lo più la variante di chi qualcosa l'abbia iniziata e poi si è andato a sfumarsi o comunque che c'era un'amicizia o un qualcosa che volevate volvesse in altro e poi alla fine non è evoluta in niente una delle due parti si è chiusa un po' il riccio e ha tagliato fuori l'altra ed è un po' come se foste rimasti soli con voi stessi allora andiamo a vedere un po' le carte degli angeli infatti qua esce la carta del flirt quindi l'energia che gli angeli vogliono segnalare su questa persona in questo momento qui è il flirt dove la posso mettere così che la possiate vedere qui qui gli angeli lo ripetono probabilmente qui c'è stato l'inizio di un qualcosa che magari vi ha dato anche gioia vi ha fatto riscoprire quanto magari possiate essere attraenti belli vi ha dato anche lo sprint per curarvi un pochino di più però vi ripeto qua le cose si sono bloccate, interrotte comunque non è nato quello che voi vi aspettavate questo nel passato andiamo a vedere la situazione presente qual è quindi andiamo a vedere qui controlli allora qui l'asso di bastoni è stato coperto dall'energia del matto quindi comunque diciamo che è un'energia di leggerezza in questo caso quindi quest'inizio questa persona nei vostri confronti lo vede più in termini di amicizia più in termini di leggerezza piuttosto che di un qualcosa di serio almeno per ora quindi andiamo ad indagare ulteriormente il due di bastoni è coperto dal principe di bastoni quindi comunque questa persona è una persona estremamente dinamica attiva una persona che sa quello che vuole sa come conquistarselo sa come prenderselo però allo stesso tempo è una persona che si è raggiunto i suoi traguardi si è raggiunto il suo traguardo anche nei vostri confronti però è estremamente immatura e questo ce lo conferma anche la carta del matto che abbiamo pescato sull'asso di bastoni ancora qui esce un altro principe che è quello di denari anche qui questa persona diciamo che è più stimolata dall'aspetto materialistico e donistico delle cose piuttosto che ha un aspetto sentimentale questo è quello che stanno facendo vedere per il presente quindi cercate di capire se questa è la vostra variante ovviamente qui l'energia viene coperta dal 10 di denari e infine dal 5 di coppe che copre il 2 di coppe quindi allora mettiamola così questa è una persona che ha saputo conquistarvi ha saputo prendervi ha saputo trascinarvi all'interno della propria vita probabilmente da parte vostra c'è un certo coinvolgimento ma penso sia per lo più un coinvolgimento di tipo sessuale anche se comunque voi ci state male e a livello emotivo state soffrendo perché comunque questa persona vedete qui escono diverse carte di movimento quindi presumo che questa persona al momento o non faccia parte della vostra vita o se ne sia andata via lasciandovi un po' diciamo con un pugno di mosche o probabilmente questa persona c'è nella vostra vita mentre ed esce vista comunque l'energia del principe di bastoni e del matto quindi diciamo che questa persona comunque è molto attratta nei vostri confronti a questa persona piace parlare con voi questa persona si sfoga bene con voi sicuramente c'è un'attrazione non indifferente andiamo a vedere la carta degli angeli per il presente qual è? è il free yourself allora probabilmente questa persona si è un attimo liberata dalle catene di una situazione vincolante quindi per dirla in termini spiccioli questa è una persona che almeno nel presente non si vuole impegnare ovviamente cercate di capire se è la vostra variante perché qui è come se questa persona avesse già tutto ciò che desidera e debba proteggere qualcosa che comunque è anche la causa della vostra rottura potrebbe essere il suo ego quindi potrebbe avere un ego molto fragile e quindi scappare dalle relazioni e dalle situazioni vincolanti anche per questo potrebbe essere che tra voi ci sia stato un disguido un battibecco comunque che in qualche modo lui vi ritenga in qualche modo capaci di sottometterlo o soggiogarlo e questa cosa comunque non gli piace io qui non vedo dei veri e propri litigi ecco probabilmente delle parole che non sono state espresse in modo chiaro sì probabilmente delle parole taglienti sì un vero e proprio litigio no sembra così che questa persona all'improvviso abbia rotto la relazione in modo molto freddo molto calcolatore molto programmato quando meno ve l'aspettavate è stato un fulminaccio al sereno tant'è che qui la crisi non è stata neanche ben preannunciata perché è come se si fosse svolto tutto così velocemente che voi non ci avete capito niente quindi ovviamente cercate di capire se è la vostra variante però io qui vedo proprio la vostra attrazione nei confronti di questa persona che in qualche attratti vedete anche in modo duplice come se un po' vedeste sotto una certa ottica un po' la vedeste sotto un'altra un po' lo vedete come la persona che è entrata nella vostra vita e vi ha dato tanto un po' lo vedete come quella persona che dalla vostra vita se ne è andata e quindi vi ha tolto tanto potrebbero anche indicare le carte in questo momento che nella vostra vita sono entrate altre persone che vi stanno corteggiando quindi magari in questo momento siete corteggiati da altre persone sicuramente con la carta del principe di bastoni sul due di bastoni qui potrebbe indicare che avete recentemente iniziato delle comunicazioni con altre persone oppure potrebbe segnalare che dopo un momento diciamo di rottura di pausa o comunque di allontanamento questa persona nella vostra vita va e viene e nella vostra vita contemporaneamente è entrata un'altra persona oppure questi due principi sono sempre la stessa persona diciamo che viene vista ai vostri occhi in maniera differente una cosa è certa il due di coppa al rovescio viene coperto dal cinque di coppa in questo caso che sicuramente porta dispiacere quindi non siete molto ottimisti su questa situazione e vi porta molto rammarico sicuramente qui vedo un sovraffollamento di persone e per molti di voi ci sono delle persone che vi hanno puntato e a cui piacete ma voi avete il cuore distrutto l'emotività ecco affranta per via della persona per cui adesso state chiedendo questo interattivo cosa mi fanno vedere le carte che qui comunque non ritenete diciamo all'altezza le altre persone che vi ronzano intorno un po' perché comunque nei confronti di quella persona avevate sperato tanto forse quella persona era arrivata in un momento della vostra vita critico oppure in cui avevate proprio bisogno di una scossa emotiva e quindi riconoscete tanto a questa persona e qui le carte fanno vedere che comunque non vi state concentrando sulle cose belle della vita e rimanete vincolati al ricordo di questa persona e anche se nella vostra vita adesso ci sono altre persone non riuscite a liberarvi completamente dal ricordo di questa persona o comunque dall'energia di questa persona come se qualsiasi persona che incontrate facciate un po' un piccolo paragone quindi questa è l'energia attuale nella vostra vita io non vedo al momento un partner fisso comunque se c'è diciamo viene subordinato dalla presenza del ricordo di questa persona o comunque dalla dalla malinconia che avete come se la persona precedente o comunque la persona per cui state chiedendo vi abbia scombussolati così tanto che avete in parte anche chiuso il vostro cuore allora cos'altro mi viene da dire sicuramente qui c'era un'attrazione quasi così travolgente che ancora la ricordate a pelle se ci pensate sicuramente vi ricorderete l'ordore che provavate in quel momento allora prima di muoverci verso il futuro vorrei un attimo indagare con le carte degli oracoli della luna quali sono i messaggi a livello delle emozioni che questi oracoli vogliono comunicare a voi e all'altra persona quindi andiamo ad identificare un po' l'energia a livello emozionale a voi esce take time to brief out scusatemi oggi ho parlato tantissimo allora questo è il tempo di prendersi una pausa infatti è molto coerente col free yourself quindi adesso c'è proprio il momento di fare un bel sospiro e liberarsi con questo sospiro di tutta l'energia negativa collegata a questa persona di cui state chiedendo adesso è proprio arrivato il momento di liberarsi di eliminare questa persona dai vostri ricordi o comunque di prendere un momento un attimo per riflettere a mente lucida perché comunque il 5 di coppe che copre il 2 di coppe in questo caso ci sta dicendo che per via della vostra sofferenza emotiva non riuscite veramente a capire cosa sta succedendo c'è un vero e proprio disappunto per quanto riguarda l'energia di lui qui dice che adjustments are required so in questo caso c'è proprio bisogno di un chiarimento quindi le energie da parte sua sono queste c'è la volontà comunque di chiarire di spiegarvi il perché si è comportato così anche se in questo momento io vedo in lui più l'energia di chi vuole fuggire visto il matto perché comunque non ha abbastanza maturità questa persona per affrontare la questione comunque a livello emozionale questa persona vuole chiarire con voi perché qui comunque è successo il suo atteggiamento è stato scorretto qui vi ripeto non è stata una crisi preannunciata è stato un qualcosa che è arrivato così di netto quindi mettiamo questa carta qua quindi queste sono le vostre energie al momento a livello emozionale quindi da parte vostra c'è la necessità di chiudere o comunque di respirare perché è come se la presenza comunque il ricordo di questa persona soffocasse tutto il resto vi rendesse pessimisti e tristi mentre da parte dell'altra persona c'è la volontà comunque di chiarire il perché è scomparso da un momento all'altro dalla vostra vita allora andiamo a vedere il futuro della vostra relazione insieme o non insieme andiamo a vedere un po' cosa dicono le carte quindi abbiamo la temperanza il 7 di bastoni quante carte di bastoni il 5 di bastoni il 10 di coppe che copre il 10 di denari e l'8 di spade allora cosa fanno vedere qui le carte diciamo che è una vera e propria riappacificazione fra voi e questa persona sarà difficile ma comunque ci sarà le carte dicono che ci vorrà del tempo perché c'è bisogno un attimo di rielaborare da parte di entrambi e potreste essere voi a fare il primo passo questa persona non ha abbastanza maturità deve crescere mentre la temperanza è una carta femminile quindi qui comunque ci saranno delle parole ci saranno dei discorsi che però col 7 di bastoni e il 5 di bastoni non saranno proprio tranquillissimi tra l'altro qui come vedete potrebbero arrivare anche tramite messaggi o chiamate perché comunque sono sulla linea del 2 di bastoni sicuramente c'è una ripresa in qualche modo ci saranno dei chiarimenti ci sarà un risolvere ci sarà un proseguire se adesso la situazione è un avanti e indietro fra voi due o comunque questa persona viene e poi sparisce probabilmente questa situazione continuerà ancora finché voi non deciderete di tagliare se questa persona invece è completamente sparita dalla vostra vita l'opportunità di un chiarimento col tempo ci sarà quello che vedo però è che voi inizierete a concentrarvi di più su voi stessi e sul vostro quotidiano sulla vostra vita su gli affetti che avete quindi probabilmente qui potrebbe veramente entrare nella vostra vita una nuova persona magari se già avete una persona al vostro bianco potreste dedicarvi nuovamente a questa persona sicuramente qui come vedete l'esito con l'otto di spade non è proprio positivo la cosa che succederà è che a un certo punto voi vi libererete da queste catene però comunque la situazione tra voi due ci sono tanti ostacoli tante difficoltà forse anche altre persone di mezzo ho proprio delle situazioni difficili dalle quali è difficile uscire però comunque le interferenze tra voi faranno in modo comunque che questa relazione non vada a colmarsi nel miglior modo possibile in questo caso io vedo che comunque voi inizierete a dedicarvi di più a voi stessi andiamo a vedere qua è uscita la carta del matrimonio a livello di futuro quindi potrebbe indicare comunque un riappacificamento o potrebbe indicare che voi nella cerchia di persone che adesso conoscete che vi stanno frequentando in questo momento troverete qualcuno con cui andrete a sposarvi e qui il 10 di coppe però attenzione sembra così che qui con questa persona le cose non andranno benissimo l'interferenza di altre persone nel futuro potrebbe essere dettata dal fatto che voi avrete qualcun altro quindi magari voi troverete la persona giusta dopo diciamo la sofferenza dovuta a questa persona e magari voi avete già un compagno adesso e andrete a sposarvi o a convivere e quando questa persona tornerà diciamo per chiarire o comunque tornerà da voi o si ripaleserà arriverà il momento in cui voi gli spiattelerete in faccia tutto quello che è successo e che adesso siete felici sicuramente qui c'è un lieto fine per quelli che hanno scelto l'ametista non vi posso assicurare che sia il lieto fine con questa persona che avete scelto penso sia più un lieto fine per voi al di là di questa persona perché vedete c'è l'otto di spade quindi vuol dire è contornata anche col 5 di bastoni vuol dire che qui la situazione si evolve in un modo diverso da quello che vi stavate aspettando adesso ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a mettere il like ovviamente ricordate che questo è l'interattivo le energie sono generali quindi cercate di cogliere il messaggio generale della stesa vi faccio un grande in bocca al lupo con la speranza che comunque voi riusciate ad essere felici al di là della persona per cui avete scelto giriamo questo 2 di coppe se no capiterà sempre girato al contrario e andiamo avanti con le nostre stese quindi mettiamo da parte l'ametista e andiamo alla seconda variante che è la giada quindi benvenuta giada andiamo a vedere qual è il passato della situazione ovviamente voglio ricordare anche qui se non vi ritrovate nella descrizione del passato e del presente la stesa non è per voi quindi cambiate variante se non vi ritrovate in nessuna delle tre il messaggio delle carte oggi non è per voi allora andiamo a vedere un po' il passato di questa situazione per chi ha scelto la giada di qua è uscito un re di bastoni al rovescio allora qual è questa variante qui comunque è una situazione che in cui c'è stato molto romanticismo molta passionalità probabilmente molti di voi hanno dei figli in comune con questa persona o comunque hanno già formato un nucleo familiare l'ho esposto un po' più in qua allora questa persona comunque uscendo al contrario l'energia diciamo di questa persona non è proprio positivissima allora io qua penso che per molti di voi ci sia stata una relazione in piedi e per tantissimi anche un matrimonio è una persona che conosciete già da diverso tempo quindi vi ripeto cercate di capire se questa è la vostra variante però allora o c'è stato l'intervento di un'altra persona all'interno della vostra relazione per cui diciamo le cose non sono andate benissimo oppure eravate indecisi fra due persone e poi avete scelto questa persona oppure semplicemente potrebbe parlare dell'energia di questa stessa persona che è partita al galoppo nei vostri confronti per poi diciamo un attimo spegnersi magari qui un po' la passione si è spenta o magari non lo sentite più coinvolto come prima perché magari ha altre problematiche altre difficoltà nella vita però comunque questa persona sta con voi voi al momento state in una relazione una relazione che fra alti e bassi comunque sta andando avanti probabilmente ci sono stati dei momenti in cui avete dovuto difendere la vostra relazione difendervi voi come coppia da attacchi esterni o comunque avete subito dei momenti un attimo di crisi questo è quello che mi fanno vedere le carte per quanto riguarda il passato andiamo a vedere le carte degli angeli a livello di relazione per il passato dicono esprimi il tuo amore quindi io penso che qui la situazione sia quella di una relazione che è in piedi in cui magari un attimo la fiamma si è affievolita questo me lo fa pensare comunque il re di bastoni che è uscito con l'energia al contrario quindi significa che magari sentite questa persona distante o lontana però vi ripeto qui comunque dal passato mi dicono che una relazione c'è tra l'altro col sedicoppe dura già da diverso tempo vi ripeto qui è come se il romanticismo la passione in qualche modo sia andato un attimo a staccarsi anche se anche se potrebbe anche indicare potrebbe anche essere la variante di chi comunque in passato ha avuto una relazione romanticissima con questa persona questa persona non ha fatto vedere subito il suo aspetto caratteriale ma ha mostrato diciamo un aspetto un po' più dinamico più romantico e così via sicuramente qui l'andazzo della storia almeno per quanto riguarda il passato è positivissimo qui mi parla proprio di messaggi d'amore romanticismo scambi affettivi scambi passionali e così via quindi cercate di capire se voi che avete scelto la giada diciamo rispettivamente alla persona a cui avete pensato in effetti è questa la situazione andiamo a vedere un po' il presente come si configura qui c'è l'otto di coppia l'otto di spade che copre il sei di coppia ai 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 il sette di denari che copre la forza il papa che copre il re di pastonette uscito al rovescio e qui esce di nuovo la forza allora cosa possiamo dire qui della situazione presente beh sicuramente che uscendo di nuovo il papa mi riconfermano che qui comunque un matrimonio in piedi c'è ma è un po' una situazione di crisi una crisi sia a livello affettivo perché è come se voi desideraste di più ed è una crisi anche a livello economico forse nella coppia perché qui diciamo come se voi doveste difendere la vostra coppia la vostra famiglia ciò che avete creato con questa persona anche da un po' di trambusti a livello economico perché qui mi è uscito il sette di denari che però nel mazzo di Crowley non è una carta positivissima allora cosa fanno vedere sicuramente qui nel presente la situazione comunque persiste c'è ancora un matrimonio in piedi c'è ancora la volontà di mantenerlo in piedi ma è come se ci fossero tanti litigi la volontà comunque di ritrovare un po' il romanticismo e la passione che c'era prima potrebbero esserci con l'otto di spade delle interferenze quindi magari delle persone che si intrufolano nella relazione questo non significa necessariamente degli amanti ma potrebbe essere ad esempio che fratelli cognati zie suoceri un po' si intrufolino in questa situazione e la danneggino oppure potrebbe essere visto che c'è il sette di denari qui vicino che magari la situazione economica non è proprio positivissima e questa va a interferire diciamo sull'andazzo della situazione quello che vi posso dire però è che qui è come se fosse più una vostra sensazione che è la verità dei fatti perché anche se c'è un qualcosa di oggettivo che qui è il sette di denari le carte dell'otto di coppe e l'otto di spade qui parlano proprio di un'indolenza emotiva è forte ma è più la sensazione di essere in trappola più la sensazione che le cose stiano andando male che la verità sul re di bastoni rovescio cade il papa e questa volta è caduta al dritto quindi vuol dire che questa persona comunque nonostante tutto tiene al vostro matrimonio e alla vostra relazione una cosa che potrebbe essere successa però è che magari ci sono state delle bugie fra voi o comunque questa persona non è stata magari non ha seguito propriamente la morale come volevate voi però qui vi ripeto sono più paure che verità perché non mi escono altre persone se non comunque qui con l'otto di spade e potrebbe essere comunque che sì ci sono delle interferenze nel vostro matrimonio potrebbe esserci magari intrufolarsi di persone e così via però comunque questa persona cade col papa e con la forza quindi comunque è un matrimonio solido allora andiamo a vedere le carte degli angeli cosa dicono ecco qui conversazioni cuore a cuore qua c'è proprio bisogno di comunicare vi ripeto la sensazione che ho qui guardando questa stesa è che sia più una vostra impressione più un vostro sentire che la verità e magari voi non volete dirlo a questa persona perché ci sono già altre difficoltà all'interno della vostra relazione oggettiva o comunque ci sono stati già dei litigi dovuti ad altre persone che vi frenano un po' non volete dare dispiacere ulteriore a questa persona però allo stesso tempo pur di non dare ulteriori dispiacere a questa persona e salvare il salvabile qui è come se il vostro cuore la vostra emotività stia cadendo a picco avete proprio la buccia sembra quasi che abbiate la sensazione che sia tutto per finire o che sia cambiato tutto nel modo peggiore il romanticismo ormai non esiste più per via di queste situazioni e così via però in realtà vi posso dire che comunque questa persona uscendo qui in questa posizione si ok sente di queste interferenze perché comunque la situazione presente non è proprio bellissima però nei vostri confronti nutre ancora passione e affetto uscendo qui come papa comunque sotto il re di bastoni anche se non lo vedete estremamente forte preso e così via cioè come se voi pensaste che non vi stia dando abbastanza forza in realtà qui sta succedendo al contrario potrebbe essere per molti di voi che magari la coppia stia semplicemente passando difficoltà dovuta ad altre persone o un lavoro o a difficoltà economiche e questa persona comunque vi stia spalleggiando quindi al di là che voi lo sentiate o meno il suo supporto qui comunque le carte fanno vedere che c'è qui il consiglio degli angeli comunque per la situazione attuale è quella di parlare di comunicare con questa persona perché c'è proprio la necessità qui di ristabilire il rapporto di ristabilire la comunicazione di riprendere il romanticismo che c'era una volta perché qua è diventato tutto molto più serio molto più cupo queste tre carte qui in particolare me lo fanno capire prima di andare avanti come abbiamo fatto per l'ametista andiamo a vedere qui con le carte dell'oracolo della luna le emozioni di voi e della persona di cui state chiedendo allora qua per voi la carta dice nothing is yet set in stone quindi niente ancora è stato scritto quindi anche se qui voi pensate che la situazione sia irrimediabile che le cose ormai stiano andando male che la persona al vostro fianco ormai non vi voglia più bene o non vi sia più attratto qui le carte della luna stanno dicendo guarda che in realtà non è così è in base al tuo comportamento in base alle tue azioni infatti qui l'otto di spade vi ripeto è la carta di chi si sente in trappola ma non lo è e il consiglio che hanno dato gli angeli in precedenza direi che qui la situazione è più che irrimediabile direi che con un po' di giocosità un po' di comunicazione la situazione si possa tranquillamente recuperare voglio metterle in un posto dove voi possiate vederle forse qui ok perfetto mentre per il vostro partner esce la luna nuova in ariete che è il tempo di agire quindi il vostro partner comunque si sta rendendo conto che deve fare qualcosa a livello emozionale non si sta buttando giù come vi state buttando giù voi è molto più ottimista di voi da questo punto di vista anche se voi lo sentite e lo percepite più passivo in realtà il vostro partner è la parte attiva in questo momento della relazione è la persona che sta cercando una soluzione anche se adesso lo vedete magari un attimo distante o temete che tutto questo stia rovinando la relazione però in realtà il vostro partner sta cercando un attimo una strategia quindi il consiglio vi ripeto al di là di quello che andremo a vedere adesso per il futuro visto che qui è uscito che niente è scritto nella pietra penso che comunque quello che andremo a delineare adesso è quello che succederà in base all'energia di adesso ma vista questa carta della luna e visto il consiglio degli angeli qui se interverrete con comunicazioni assertive comunque se farete capire al vostro partner di cosa avete bisogno sicuramente la situazione cambierà e evolverà sicuramente in positivo andiamo a vedere comunque il futuro di questa relazione qui esce il re di coppia quindi il tre di bastoni la regina di bastoni quindi comunque entrambi guardate a questo futuro gli amanti che coprono il papa e il due di bastoni no allora qui comunque la situazione si risolve tranquillamente giusto per curiosità andiamo a vedere ok qui esce la carta della past life relationship che in questo caso uscendo come carta del futuro dice che anzitutto la vostra è una relazione karmica probabilmente questa persona l'avete già incontrata in vite passate ed uscendo il 6 di coppia nel passato me lo fa anche pensare probabilmente questa è la vostra anima gemella o comunque se non credete diciamo al concetto di animo fiamma gemella e così via è la persona giusta per voi quindi tirate un sospiro di sollievo tranquillizzatevi qui la situazione evolverà solo per il meglio tutto si risolverà cercherete insieme una soluzione io vedo che qui comunque parlerete tanto vi confronterete tanto tornerà di nuovo l'armonia infatti il papa è coperto dagli amanti non escludo che torni anche quel bel romanticismo e quella passionalità che soprattutto voi donne richiedete qui come segni diciamo che sono coinvolti i segni di fuoco sono coinvolti i segni d'acqua sono coinvolte tutte quelle lune che sono in segni di fuoco e tutti quei marte che sono in segni d'acqua qui io vedo anche un sacco di testa un sacco d'aria quindi un mercurio ben pronunciato quindi potreste essere anche del segno dei gemelli o della vergine o avere un mercurio forte all'interno del vostro tema natale però al di là dei segni zodiacali io qui vedo un uomo estremamente sensibile una persona che si lascia coinvolgere molto dai sentimenti e delle situazioni che a volte può sembrare passiva ma in realtà dentro ha un mare di cose e voi invece che siete donne delle persone o comunque voi che state consultando delle persone estremamente di polso che la vita la prendono diciamo un po' più di petto quindi al di là di tutto al di là della spiegazione al di là di tutte le parole che ci siamo detti che spero comunque vi abbiano sollevato un po' il morale visto comunque che qui la situazione è più psicologica che è effettiva io penso che qui comunque la situazione andrà solo ad evolvere andrà sempre per il meglio anzi qua vedo proprio che comunque parlando in futuro riuscirete ad avere una collaborazione un po' più stretta un po' più viva e comunque un livello di comunicazione migliore ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi invito ad iscrivervi al nostro canale se vi è piaciuto questo interattivo così sarete aggiornati per i prossimi interattivi se avete delle richieste fatele pure all'interno dei commenti intanto raccolgo tutte le carte con la speranza di non metterle a testa in giù spero veramente di avervi sollevato un po' il morale a voi che avete scelto la giada intanto mettiamo da parte questa mettiamo da parte questa e andiamo all'ultima variante di oggi che è il quarzo rosa quindi ragazzi che avete scelto il quarzo rosa benvenuti nel nostro interattivo andiamo a vedere adesso il passato della relazione in presente anche qui voglio dirvi che se non vi ritrovate se non è la vostra situazione è cambiata